Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus Io sono Ser, benvenuti nel mio canale Cosa facciamo oggi? Oggi voglio ritentare il Delembe entro 20 minuti E quindi ci toccherà farlo con Azazel Che è successo? Allora sappiamo che abbiamo tre cuori eh Dobbiamo non perderli Perfetto Qui c'ho sta faccia di merda Addicted e infested Beh shiny rock aiuta tanto Soprattutto se lì c'è una Tinted che non posso aprire Vero gioco? C'è qualcun altro? Vero gioco Sì l'ho visto Lo vediamo Bombe No questo Ma viene Cuore La gente poi no Non ci voleva Voleva un cuore Un cuore Abbiamo già spawnato Questo è interessante Questo non si è sposta Quindi è inutile Bene Perfetto può essere Perfetto può essere Vediamo Vediamo l'ultimo che dava Tutto è stronzata Ammazza Sì Vorrei vedere Almeno Abbiamo abbastanza Gli oggetti Però Tanto ci casco Lo so Caricarlo Le difficoltà Ah ma tanto C'hanno anche I chiavi Come ci entro lì Cazzo Come ci entro lì Non ci entro lì Però posso aprire Quella cesta Che potrebbe darmi qualcosa Tutte strozzate Per esempio Visto che non entro Neanche per là Vediamo se tu Funzioni E mi dai più cuori Tre cuori blu Tipo Forse no Ah sì Ok La funziona Vabbè Resta il fatto Che non posso entrare Da nessuna parte Quindi Lo spero Nella stanza segreta Che dovrebbe Dovrebbe essere Eh Bella domanda Dovrebbe essere qua Quanto sei stronzo Da 1 A sono stronzo Dammi qualcosa Va bene La stanza super segreta Di fronte al boss 10 a 1 Va benissimo Un po' di cuori Li abbiamo Aperto Lo abbiamo Cazzo Non ho visto arrivare E non lo voglio Judas 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 Sì No è My Shadow No è My Shadow Non è Judas Poi perché Si è rotta il cuore d'oro Quale assurdo motivo Servono degli emperors Lo dico adesso Cominciano a essere utili Bello 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 Poi Le stanze inutili Cazzo Ce l'abbiamo fatta Una chiave Due chiavi Incredibile Incredibile Oh guarda Non c'era arrivato Che si sdoppiava Quello Non so se avete visto I beggar Quelli strani Sì vabbè Però potrei farlo saltare Quasi sicuramente Lo mi dà una chiave Aspetta un attimo Esatto Quasi sicuramente Lo mi dà una chiave Qui non credo Ci possano essere Stanze segrete Oh Non so che fa Ma spero faccia qualcosa Perché Altrimenti siamo Nella merda Sciacquerella Anche perché Sei minuti Qua Vuol dire Siamo messi Male Io sto correndo Come un coglione Doppie vite Triple vite Cazzo Dammi qualcosa Interessante Ma vai a fare In culo No La cosa la voglio Mi c'è C'è Il boss C'è Effettivamente Il boss Ok Spara Spara Curse Non sappiamo Dove Cazzo Andiamo Perfetto Sì Assolutamente Allora Mi abuela Anzoni Anzoni Scusate il silenzio in questa stanza ma non è facile avere un cazzo Qua giochiamo a chi ce l'ha più lungo e lui ce l'ha più lungo Bene In realtà qua se ci avessi più cuori lo farei Aspetta un attimo PhD eh PhD eh Qui abbiamo detto che la stanza è il sacrificio Che potremmo tentare So che è un azzardo di quelli brutti Dove è l'altro? Allora andiamo lì e vediamo se qualche cuore blu scappa Dove è che? Eeeh la miseria No niente Era uno dei pochi Dei poche alternative che avevo Devo dire la verità Grazie Ok, tu dati i bombi Pensavo invece che fossi quello che esplodeva Ora, capita No, ok Scusate la brevissima interruzione per voi Dove stavamo andando? Giù vero Giù è inutile Su è inutile E qua Lì qua potrebbe essere utile Ok, perfetto Facciamo prima Range up Che mi sta benissimo Visto che è at zero Il personaggio Un cuore in più Purtroppo quando ci si sbriga Succede questo Cazzo, questo è buono No, no Dammi un danno Dammi un danno Dai, su Fammi vedere un attimo dove era la stanza Ok, quindi probabilmente Probabilmente di là Non ti ci porta dal boss sto roba Io mi ricordavo di sì Ma parco... Diamine Dammi ne Ehm Che dobbiamo fa? Ma dai, gran pulissimo Porca puttana, no Morire Forse deve sbrigarsi ancora meglio Dai, veloce però Si Si Ok Andiamo a tentoni Ancora altri Guarda che cazzo l'hanno preso Nooo Serve più range Non ci interessa Dai però Ma carichiamo anche Bene Qui non c'è niente Qua Un attimo Qua Dai però Ma come spero di arrivarci in 20 minuti? Come? Non c'ho danno, non c'ho niente Ma come ci arrivo? Vabbè fare in culo Ma in tre minuti è impossibile dai Lo trovo due emper Tre emperor Ma quattro pure No devo proprio fregarmene Altamente Comincio a saltare le stanze Sperando di trovare la stanza giusta C'è un problema Casissimo No Oh Cristo Prima ce la faccio lo stesso Vieni Vai a fare in culo Anche tu Cioè non ho trovato un oggetto utile Che è uno Vabbè Sì vabbè Riesco a prendere anche i danni casuali Cioè Casuali No dai Ho arrivato sino al cuore In venti minuti Ora vado giù Giusto perché Ormai è finito Vabbè E niente Cercheremo di portarla a termine Lo stesso Starà anche dopo Sì ma Hai darotto il cazzo Lì viviamo come il lazzaro Vediamo questo Eeeh Questo Se dobbiamo cerca solo Di non morire Dalla prima fase Facilissimo Praticamente sicuro Che moriremo Nella prima fase In realtà Bene Come faccio No non so veramente Come fare Ma vai a fare in culo Siamo lazzari Siamo lazzari Con un danno ridicolo Vabbè Però ho fatto diventare di merda Dico Merda La caricherò lo stesso Questo video forse Va bene ragazzi Questo è quanto Ci proveremo poi Un'altra volta Ciao a tutti